Poi aver letto i passi del libro, che li ha letti veramente con una passione incredibile, se vorrà portare in teatro, se vorrà scrivere un'opera teatrale, se vorrà trasporre questo libro in un'opera teatrale? Io vorrei tanto, però adesso il teatro è molto fermo, quindi anche per scrivere potrei avere il tempo, ma per fare le prove e trovare le persone adatte, bisogna che siano tutte vaccinate, bisogna che ci sia la possibilità di tornare in teatro e per il momento è utopistico pensarlo, se ci sarà la possibilità, perché no, è un tema bellissimo, struggente, commovente e soprattutto vero, perché quello che io ho letto nelle parole di Patrizia mi ha fatto capire le mamme, che cosa sono le mamme veramente per i figli, sono tutto, quindi un figlio, anche se disabile, non sarà mai solo, sarà una mamma come Patrizia e come tante altre mamme brave. Io la ringrazio veramente per questi secondi che ci ha concesso. Grazie.